altro da te la via della conoscenza attraverso attilio m guida non è l'uomo l'autore della messa in crisi dei suoi concetti e del vuoto che si apre dentro di lui ma è ciò che lo attraversa che lo porta a comprendere come ogni fatto che accade intorno a lui sia sempre la negazione del suo protagonismo la via della conoscenza dice all'uomo tu non c'entri e nulla ti riguarda quindi smettila di posare lo sguardo sul tuo farti piccolo con l'intento di progredire posalo su ciò che c'è che è sempre soltanto altro da te fissa lì il tuo sguardo ma non smettere di osservarti quando puntando di nuovo l'attenzione su di te ti racconti che ancora non ti sei fatto abbastanza piccolo da permettere che altro da te trionfi e ogni volta che qui vi sentite dire che siete attraversati da altro da voi non correte subito a pensare all'oltre ma pensate a ciò che scorre dentro ed intorno a voi a tutte le sollecitazioni ed a tutte le possibilità offerte dal tempo che scorre e dall'accadere in cui tutto è espressione di un'identica realtà che è l'unità dell'esistenza che è l'unità dell'esistenza